Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Socony Peregrine 13, una scarpa di Socony molto famosa, infatti siamo alla tredicesima edizione, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'intera recensione completa. Iniziamo come soggiora qualche caratteristica fornita da casa per queste Peregrine. Troviamo una suola power track di Socony e anche l'intersuola è proprietario ed è un power run con un drop di 4 mm. La tomaia in mesh è il tutto per un peso di 270 grammi nella taglia 42 uomo. E adesso come abbiamo visto qualche caratteristica, iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola per queste Peregrine 13. Come vi dicevo troviamo una suola proprietaria di Socony, la power track, ovvero una suola che mi ha abbastanza stupito. Va bene su tutto quello che è tracciolino, strada bianca, ma soprattutto il punto dove mi ha stupito è la roccia. Su roccia, anche bagnata, io devo dire che ho trovato un ottimo grip. Dipende un attimo anche da che tipo di roccia trovate, però in generale l'ho provata diversi giorni su roccia bagnata perché in questa settimana ha piovuto. E devo dire che mi sono trovato molto molto bene. Un pochino meno bene sulla parte di fango. Nel senso, quando è fanghino abbastanza duro, tiene. Quando inizia ad essere fango, molle, lì si hanno un po' di problemi. Ma in questo caso vi visitate anche la versione ST che ha un tassello più alto, proprio pensata per un terreno morbido. Però diciamo che comunque è una scarpa, secondo me, un po' tutto fare dal punto di vista del terreno perché davvero va bene un po' ovunque. Cosa poi che mi piace molto è tutta la struttura con cui è stata progettata questa suola perché si adatta molto bene ad ogni tipo di terreno. Anche alle rocce si è adatta molto bene. Devo dire che davvero c'è dietro un'ingegnerizzazione non male. Continuiamo e passiamo a parlare dell'intersuola. Come dicevo, un'intersuola Power Run che è proprietario Soconi. E devo dire che è un ottimo intersuola perché è formato da delle schiume, diciamo a media densità, che gli vanno a dare quell'ottimo compromesso tra morbidezza e reattività. Con questo tipo di scarpa ci si potrebbe correre anche delle medie distanze senza tanti problemi. Ed è una scarpa comunque molto reattiva. Io ci ho corso sul piano, torno anche 4,30 al chilometro, e ci sente che la scarpa viaggia, viaggia veramente molto bene. L'aspetto poi che più mi è piaciuto di questo intersuola è la sua piastra. All'interno troviamo una piastra che ci permette di poter correre su roccia, anche appuntita, senza sentire male alla pianta del piede. È una scarpa che davvero, grazie sia alla suola sia all'intersuola, su roccia dà proprio il meglio di sé. Continuiamo e passiamo a parlare della tomaia, iniziando come soltanto dal puntale. Il puntale è molto ben strutturato. Roba che anche qua, se prendete dentro contro le rocce, avrete un'ottima protezione. Mi piace poi che la parte in gomma del puntale continui fino a metà della scarpa, perché questo, oltre a proteggere il nostro piede, protegge anche la tomaia da degli strappi. E in sé la tomaia ha un mesh abbastanza fitto e devo dire che la traspirabilità c'è, ma non è sicuramente il suo punto di forza. Per intenderci, se la utilizziamo in delle giornate estremamente calde, lì suderemo un bel po'. È una scarpa che, essendo pensata per andare soprattutto magari più in alta quota, ci sta che non abbia una tomaia super mega traspirante, ma che tenda molto anche a proteggere. Quindi, comunque secondo me è un'ottima tomaia. Va naturalmente poi utilizzata la scarpa sul terreno giusto. Per quanto riguarda il tallone, qui troviamo un tallone molto strutturato, che pian piano che saliamo si destruttura nella parte superiore, anche se non si destruttura così tanto come tante altre scarpe. Devo dire di essermi trovato molto molto bene, e vista anche la parte di intersuola che non è super alto, devo dire che con questa scarpa è molto difficile prenderci storte. Io l'ho trovata molto stabile, anche correndo su rocce, devo dire che non ho avuto problemi di svergonamenti o scavegliate. Per quanto riguarda invece la parte superiore del tallone e l'imbottitura, è una scarpa mediamente imbottita. Non è super super imbottita, diciamo che è un pochino minimal, però è quel giusto compromesso che ci permette di poter utilizzare la scarpa anche su qualche traverso senza avere dolori. Sicuramente non è una scarpa super mega imbottita. Infine, linguetta e lacci, troviamo una linguetta abbastanza morbida, molto morbida, anche qua con poca imbottitura, però comunque copre bene dalla pressione dei lacci. E per quanto riguarda i lacci, invece, questi mi sono piaciuti veramente veramente tanto. Questi fanno sì che riusciamo a serrare per bene la scarpa attorno al nostro piede ed avere una calzata molto molto precisa. Davvero devo dire che il piede all'interno è molto ben serrato e la scarpa segue veramente bene tutto il movimento del piede. Per quanto riguarda la soletta, questa proprietaria Soconi, devo dire che comunque mi ci sono trovato abbastanza bene. Tende un pochino a far scivolare quando abbiamo la scarpa bagnata. Adesso adesso possiamo correre in qualche giorno di pioggia. Però devo dire che quando la utilizziamo asciutta non ha nessun problema. Quindi io andrei tranquillamente avanti a utilizzare anche quella data in dotazione. Per quanto riguarda invece la larghezza dell'avampiede, ammetto che mi sarei immaginato qualche millimetro in più di spazio. Invece l'ho trovata, non dico stretta, però diciamo che c'è un qualche millimetro in meno di spazio rispetto al normale. Questo fa sì innanzitutto di avere una scarpa molto molto precisa, assolutamente. Però se siete persone che hanno una pianta del piede abbastanza larga, io andrei tranquillamente di mezzo numero in più, se non anche un numero addirittura. Ma per chi consiglio queste Peregrine 13? Allora, secondo me va bene un po' per tutti i corridori. Dal principiante che magari cammina tanto e vuole una scarpa comunque con una certa ammortizzazione e anche gli dà anche tanta protezione, a invece un atleta esperto che vuole correre e viaggiare ad alto ritmo. Quindi devo dire che è una scarpa abbastanza un po' per tutti, è molto polivalente. Su che tipi di terreno la utilizzerei? Anche qua un po' tutti, magari escluderei di utilizzarla in quei giorni in cui piove, lì magari andrei su un altro tipo di scarpa anche sempre risso con i, però devo dire che sull'asciutto va veramente bene un po' ovunque. A livello di distanza io ci farei tranquillamente anche una gara tra i 60-80 km senza nessun problema e devo dire che secondo me è perfetta per quelle gare in cui magari si parte da bassa quota, si sale, si trova anche un po' di roccia, poi si riscende. Diciamo quel tipo di gare in cui il tipo di terreno varia anche ogni chilometro senza tanti problemi. Detto ciò arriviamo alle conclusioni per queste Peregring 13. Innanzitutto il prezzo, vengono vendute da Soconia, 150 euro. È una scarpa che è uscita da qualche mese ormai, quindi il prezzo se è abbassata online si trova tranquillamente sui 100-110 euro. Ve la consiglio? Sì, ve la consiglio davvero tanto, mi sono trovato molto molto bene. Può essere utilizzata anche come prima scarpa per qualcuno che si avvicina al trail. Devo dire che davvero mi sono trovato molto bene anche a livello di materiali, a livello di utilizzabilità, quindi sì, una scarpa che mi ha convinto e brava Soconia. Detto ciò, io nella speranza di essere stato esattamente esattivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!